La scorsa domenica 5 settembre a Siligo si è svolta la 19esima edizione del premio Maria Carta che quest'anno ha voluto rimarcare l'importanza dell'identità sarda nel mondo premiando gli artisti Maria Luisa Congio e Gio Perrino, il Circolo Associazione Culturale Sardini Toscana e l'azienda Numera del gruppo Biper. Presenti tra gli altri all'evento Michele Paes, presidente del Consiglio regionale, il sindaco di Siligo Giovanni Porchedu, Angelino Mereu, presidente del Circolo Axit Firenze, Antonio Capitta e Francesco Chiari, rispettivamente presidente e direttore della Numera, padre Salvatore Morittu e il rettore dell'Università di Sasseri, Gavino Mariotti, nonché Maria Amelia Lai, vicepresidente della Camera di Commercio Nord Sardegna. Durante la manifestazione è stato anche presentato un inedito video realizzato per la regia di Mauro Fancello incentrato sulle note di Non poto reposare eseguita da musicisti isolani, con in apertura la tromba di Paolo Fresu e in chiusura un frammento di una registrazione del 1993 in cui duettavano Andrea Parodi e la stessa Maria Carta. È un omaggio a Maria Carta che per fece conoscere al mondo nel 1978 non poto reposare, ma è anche un omaggio a tutti i sardi nel mondo che si riconoscono in questa canzone, ha spiegato Leonardo Marras, presidente dell'omonima Fondazione Maria Carta. L'edizione dell'anno prossimo, che celebrerà il ventennale, sarà speciale e la faremo sempre qui a Siligo, ha concluso Marras. Grazie a tutti.